Lainati, palese. L'8.01 è ritirato. 8.03, Turco e altri, invito a ritiro parere contrario. 8.02, Colletti e altri, invito a ritiro parere contrario. Colletti. Tutti favorevoli. Turco. Favorevoli. Governo. Contrari. Grazie. 8.03, Turco ed altri, contrari, Commissione e Governo, favorevoli i relatori di minoranza, e dichiaro aperta la votazione. Colonnese. Chi è che non riesce a votare? Malpezzi. Galperti. Qualcun altro? Carra. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 78 favorevoli, 262 contrari. La Camera respinge. Andiamo all'8.02, Colletti ed altri. Colletti chiede di parlare. Prego. Colleghi, il tono della voce, per favore. Grazie, Presidente. Con questo emendamento vogliamo mettere fine al limite delle tre consegne per il concorso in magistratura. Grazie.